www.malizopoli.it è stata rifinanziata la nuova Sabatini Green che ricordo che è un'agevolazione che sostiene gli investimenti delle piccole e medie imprese finalizzati all'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali, 4.0, Green e per tutto il processo produttivo, nonché hardware e software per i processi e tecnologie digitali. Il contributo è del 2,75 per gli investimenti ordinari, del 3,575 per gli investimenti Industria 4.0 e appunto del 3,575 per gli investimenti Green, anche alcuni veicoli classificati N2 e N3 che è stato recentemente introdotto questa opportunità anche per questi veicoli Green. Può essere assistito il finanziamento dal Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese fino all'80%, quindi la garanzia statale. L'importante è che il finanziamento sia tra 20.000 e 4 milioni di euro e che non duri più di 5 anni. Quindi la nuova Sabatini è un ottimo strumento per le imprese che devono fare investimenti anche per il 2024 con alcune particolarità per quanto riguarda l'aspetto Green, l'aspetto ecologico e di sostenibilità. Contributo in conti interessi. Vi riporto poi qui l'articolo e alla prossima!